Ciao a tutti, oggi guardiamo alcuni esempi pratici di potatura del CLST, il sistema di allevamento che ho messo a punto negli ultimi anni. Per chi volesse approfondire la conoscenza su questo sistema di allevamento, lascio alcuni link nel testo a corredo di questo video. Prima di procedere vi ricordo che il sistema prevede che tutti i tralci presenti siano speronati a corona o a una gemma franca. Per semplicità e per poter procedere spediti consiglio di speronare a un centimetro e mezzo. È un tipo di potatura estremamente facile che può essere affidata con successo anche a potatori con poca esperienza. Grazie a tutti. Trattandosi di un sistema a potatura corta, sarebbe bene potarlo nella seconda parte dell'inverno. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!